Bentornati sul canale amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Avanti un altro è il famosissimo programma televisivo del grande conduttore Paolo Bonolis. Ma quanto guadagna la bonus Sara Croce? Assurdo, bonus Avanti un altro. Conosciamo ormai tutti il famoso programma tv condotto dal magico Paolo Bonolis. Avanti un altro infatti è uno di quei programmi televisivi che ti tiene incollato alla televisione da quando inizia fino a quando finisce. Inoltre viene mandato in onda in un orario in cui solitamente tutti i lavoratori sono in casa. In questo modo le famiglie si godono la visione dello show mentre preparano la cena o mentre cenano. E, divertente inoltre mettersi alla prova tentando di rispondere nel modo corretto come se si fosse realmente al posto del concorrente che risponde alle domande davanti a Paolo Bonolis. Avanti un altro è stato realizzato anche grazie al Guinness World Record ottenuto da Paolo nel 2010 per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto, che per Paolo O sono state ben 332. Per garantire infatti ai concorrenti di risparmiare tempo, permettendo loro di guadagnarne per pensare alla risposta corretta alla domanda, Paolo deve pronunciare molto velocemente le frasi. Ma oggi non parleremo di Paolo, né di avanti un altro in particolare, ma di una delle protagonista che ne fanno parte. Stiamo parlando infatti di Sara Croce, la bonus del programma TV. Ecco quanto guadagna e a quanto ammonta il suo stipendio, avanti un altro scopri quanto guadagna la bonus Sara Croce. Sara Croce è comparsa più volte nel programma di Paolo Bonolis, nel quale viene presentata indossando abiti o completi intimi estremamente sensuali, il quale la rendono una delle donne più apprezzate in Italia. Questo ruolo viene ricoperto da lei non solo per la sua partecipazione ad avanti un altro, ma per un ruolo importante ricoperto in un altro programma di Paolo Bonolis. Stiamo parlando dello storico Ciao Darwin, in cui lei ha partecipato come, madre natura. Chi ha seguito almeno in parte lo show, conosce bene quando per il programma sia importante il suo ruolo, poiché funge da mascotte del programma e viene presentata al pubblico in modo plateale, acclamata e desiderata da tutti. Ma Sara, prima ancora di svolgere lavori televisivi, è una modella e una famosa influencer. Sui social infatti il suo numero di followers ammonta a ben 1 milione. Ma quanto guadagna ad nel programma di Paolo Bonolis, secondo le indiscrezioni, Miss Claudia guadagna circa 1000 euro a puntata, ma essendo Sara la bonus, dovrebbe guadagnare una percentuale in più. Ovviamente il suo stipendio mensile non deriva solo da avanti un altro, ma guadagna anche grazie alle sponsorizzazioni su Instagram. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.